Cerco un po' di luce. Allora, adesso abbiamo due varianti. Io prima non ho mica risposto a quella che mi mette adesso, la liquefazione. In realtà è stata rilevata una possibile liquefazione dei primi 15 metri di suono in caso di sisma nell'anzona oggetto di questa variante. Non lo so se rispetto all'amore di una ipotetica non lo so, non lo so, non la gestazione ecologica, queste. Però è vero, le analisi, le indagini geologiche hanno rilevato che in quella zona c'è una zona soggetta a liquefazione in caso di sisma. Quindi vuol dire che è meglio non costruirlo se non si fa, vanno prese percorzioni maggiore. Allora, queste due varianti, variante APS-C e variante ARU, sono la chiusura di quel lungo percorso, siamo venuti già in un settimana, almeno tre volte, credo. Tutto nasce dall'accordo all'ex articolo 18 in fase di approvazione del POC con la fondazione O-Terapia. L'accordo prevedeva la cessione di circa un età di terreno in cambio di un lotto. Oggi questo lungo percorso si chiude. Non dico altro. È finito tutto l'Inter, avete visto che è stato predisposto dalla provincia, come si chiama? È stato predisposto dalla provincia un documento, non ricordo il nome, e comunque è un accordo che abbiamo fatto con la provincia al fine di abbreviare a tempi che altrimenti sarebbero stati ancora un po' lunghi. Abbiamo recepito delle deduzioni, con le contradduzioni, insomma, morale della favola si chiude questo percorso che ha dimostrato essere veramente complesso. Diciamo complesso, perché comunque è una variante APS-C è relativamente semplice per adibire quella zona, utilizzo per un parco, piuttosto che per fotovoltaio, piuttosto che per orti, piuttosto che eccetera eccetera, ci ha impegnati per molti mesi, sono poi diversi seguiti così comunali. Ma da questo punto di vista credo che chiuso l'Inter terremoto, Inter intendo normativo e dire le ordinanze, poi la regione riprenderà in mano la normativa della pianificazione urbanistica. Perché? Perché insomma, i tempi sono troppo lunghi. Questo è già stato detto. Se ci sono domande io, altrimenti parlo direttamente. Conosciamo bene il tema. Abbiamo condiviso già varie volte. Allora, progetto numero 6, approvazione variante al RUE. Punto numero 5, approvazione variante numero 1, 2011 al piano strutturale Comunale di PSG. Chi è favorevole al seno abbrano? 12, 1,000. Utiliamo anche per immediata esecutività. È favorevole? 12, 1,000.